Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi è domenica e non ho un cazzo da fare Per di più fuori piove e quindi sono sceso in garage e mi è venuta in mente un'idea Ovvero di continuare intanto la serie del wrapping E quindi giranzolando intorno e guardando nella macchina ho visto delle parti che si possono grappare Per abbellirla ulteriormente Detto ciò vi faccio vedere una cosa Questo è il nostro cassettino e io andrò a grappare questa parte Quindi prima cosa ci togliamo questo Ci sono due gancetti uno circa qui e uno circa qua Tiriamo verso di noi Ecco fatto Ok ragazzi come al solito dobbiamo avere a disposizione il nostro taglierino La nostra carta per grappare Il nostro fondo o la nostra pistola termica Il nostro cassettino Il nostro fondo o la nostra carta per rendere Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.